di casa porta bene si giochi in puglia dal 2016 che la faccia grandi emozioni veramente una gara a 6 per mille motivi c'è tanta gente tanti miei amici giù tanta aspettativa io mi sono concentrato e preparato bene bene benissimo qualche anno qualche anni di esperienza ce l'abbiamo il gt per cui molto contento questa vittoria è importante soprattutto in ottica campionato beh insomma le prime sono sette gare le prime due sono andate a mio favore nonostante abbia sempre una capa rispetto ai gt3 per cui questo è tutto dire